Ehi ragazzi Rosso Blu! Prima di entrare a fondo in questa notizia, voglio dare il benvenuto a tutti voi che state seguendo il canale. Se non siete ancora iscritti, sapete cosa fare, iscrivetevi ora per non perdere neanche un momento della nostra amata squadra del Cagliari. Ora passiamo alle cose serie. Il Cagliari, sotto la guida di Claudio Ranieri, continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi. E guarda un po', il nome di Karol Linetti, centrocampista polacco del Torino, è nel mirino dei Sardi. Linetti ha già disputato 14 partite in campionato e in Coppa, dimostrando la sua qualità in campo. Il Corriere dello Sport riporta che il Cagliari sta ancora seguendo questo giocatore, che sarebbe un rinforzo molto funzionale per la nostra squadra. Il centrocampista, che appartiene al Torino di Urbano Cairo, ha caratteristiche che piacciono all'allenatore della Sardegna. Claudio Ranieri ha avuto l'opportunità di allenare Linetti durante il suo periodo alla Sampdoria, il che potrebbe portare non solo esperienza, essendo nato nel 1995, ma anche una forte propensione offensiva per il centrocampo rosso-blu. E voi, cosa ne pensate di questa possibile arrivata di Linetti al Cagliari? Potrebbe essere il giocatore di cui abbiamo bisogno per rinforzare ulteriormente la squadra? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti. Non dimenticate di lasciare il like se siete entusiasti delle possibili mosse di mercato del Cagliari. E se non siete ancora iscritti, ora è il momento ideale per far parte di questa famiglia rosso-blu su YouTube. È tutto, ragazzi! Restate sintonizzati per ulteriori novità e incrociamo le dita affinché il Cagliari faccia ottime operazioni di mercato. Forza Cagliari e alla prossima!